Giovedì 29 ottobre un cordiale saluto ai nostri Grazie a tutti i telespettatori, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Situazione Covid-19 in Puglia. Certamente non parliamo di una situazione confortante, anzi abbastanza delicata dal momento che i numeri anche della nostra regione sono in crescita. E così ieri sera il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, ha emesso l'ordinanza con la quale si dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Sentiamo. 417 gli studenti risultati positivi e 151 i casi positivi tra docenti e personale scolastico. Sono almeno 286 le scuole pugliesi toccate da casi Covid. Così la decisione arriva. Dal venerdì 30 ottobre fino al 24 novembre sospese l'attività didattica in presenza nelle scuole. A dirlo il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, con precisa ordinanza, seguita anche dall'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco. L'ordinanza è la numero 407. Due sono i punti focali della stessa ordinanza che leggiamo testualmente. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, scuola primaria, secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, adottano la didattica digitale integrata, riservando le attività in presenza esclusivamente ai lavoratori, ove previsti dai rispettivi ordinamenti del ciclo didattico e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare ogni lunedì della settimana all'ufficio scolastico regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso scuola.salute.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivo e in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza Covid. Da parte delle scuole, in queste ore, si passa quindi alla didattica a distanza, con i vari consigli di istituto che stanno ratificando tale scelta. Intanto sentiamo il presidente Emiliano e l'assessore Lopalco. È una decisione sicuramente sofferta che ho dovuto prendere a causa dell'alto numero di contagi scolastici connesso alla riapertura delle scuole che abbiamo verificato in queste settimane. Si tratta di numeri fuori scala che hanno anche mandato in tilt il contact tracing per l'altissimo numero di contatti indiretti che i contagi scolastici hanno determinato. Quindi una richiesta al mondo della scuola di collaborazione, pur tenendo conto degli sforzi enormi che sono stati fatti dal mondo della scuola per tenere bassi i contagi, ma questo tentativo purtroppo non è andato bene. Adesso dobbiamo sperare che un periodo di sospensione possa consentire, mi auguro al più presto, la ripresa delle attività scolastiche. Le attività scolastiche, oltre a rappresentare di per sé un rischio di diffusione virale per il fatto appunto della vicinanza, del vivere in comunità, di tutto quello che avviene prima e dopo l'entrata nella scuola, hanno nelle ultime settimane generato un enorme lavoro per i dipartimenti di prevenzione. Questo per via delle indagini epidemiologiche, degli isolamenti, dei tamponi, per non parlare di tutto il carico di lavoro per i pediatri legati alle certificazioni. Ed era prevedibile che questa decisione scatenasse polemiche, non soltanto nel mondo della politica o nelle famiglie, e nello stesso mondo della scuola. Ad intervenire è proprio il ministro Lucia Azzolina, ministro dell'istruzione, che scrive che la regione Puglia ha sospeso le attività didattiche in presenza, definendo impressionante il numero dei contagi. Eppure, secondo quanto ci ha comunicato, si tratta di 417 studenti risultati positivi su una popolazione studentesca di 562 mila. La stessa regione ha poi ammesso il problema in realtà non è la diffusione del virus all'interno delle scuole, ma l'organizzazione del lavoro della sanità regionale. Si riaprano al più presto le scuole, tuone il ministro Azzolina, evitando conseguenze gravi, presenti e future per gli studenti e per le famiglie. Sono sommersa in questione da messaggi di sconforto, delusione e amarezza. La comunità scolastica pugliese nei mesi scorsi ha lavorato tantissimo, aggiunge il ministro, per preparare le scuole a riapertura, dimostrando spirito di sacrificio e responsabilità. La stessa che oggi è richiesta a tutti gli attori istituzionali per non togliere alle bambine e ai bambini momenti di socialità, studio, impegno e crescita. Dicevamo reazioni politiche a questa notizia, a questa decisione della governatore della Puglia, Michele Emiliano. Sentiamo quali quelle dell'opposizione. Le reazioni del mondo politico dopo la decisione del governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, di chiudere le scuole non si sono fatte attendere. Duri gli attacchi da parte dell'opposizione. Numeri del contagio fuori controllo in Puglia al punto da rendere necessaria la chiusura delle scuole, tranne quelle dell'infanzia. Così il senatore di Forza Italia, Dario Damiani. Ad appena un mese dalla riapertura, la coppia Emiliano-Lopalco perde di colpo tutta la sicumera di poche settimane fa. Ed ecco i risultati. Siamo appena ad ottobre e già si impone il lockdown scolastico perché la sanità pugliese non regge l'urto dei casi in aumento vertiginoso. Ha avuto sette mesi di tempo per migliorare il trasporto pubblico pugliese, ma non lo ha fatto. Così come non ha aumentato il numero dei tamponi rapidi, commenta invece il deputato pugliese della Rega Rossano Sasso, membro della Commissione Cultura. Rabbia, delusione e profonda amarezza per questa catastrofe educativa causata in parte dal Covid, in parte dalla inadeguatezza del ministro Azzolina. Ora, conclude Sasso, chieda scusa ai bambini pugliesi e si dimetta. Infine l'intervento della coordinatore regionale pugliese di Fratelli d'Italia, l'onorevole Marcello Gemmato, che scrive Non giudichiamo il provvedimento della chiusura delle scuole, ma possiamo affermare con certezza che il presidente Emiliano, con la complicità del ministro Azzolina, non ha pianificato in passato né ha pianificato prima di annunciare la decisione in tv. La Puglia è nel caos creato dall'incompetenza politica e decisionale. Il trasporto pubblico scolastico e locale, luogo di massima promiscuità, poteva essere diluito o coadiuvato dal trasporto privato. Manca una linea di comando, non si sa cosa accadrà da domani, cosa faranno i nostri ragazzi. La Puglia è attrezzata per la didattica a distanza o ci saranno giorni vacanti in cui gli studenti si riverseranno nelle strade delle nostre città, fra un caffè e lo shopping? Cosa intende fare, conclude Gemmato Emiliano, per non lasciare, come sta accadendo in queste ore, il corpo docente e gli operatori scolastici nel caos? Questo a livello regionale, per quanto riguarda invece il territorio di Brindisi, ieri nel pomeriggio si è tenuta una videoconferenza fra la ASL e i sindaci del territorio. A margine di questa videoconferenza il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ha diffuso un video in cui fa il punto della situazione e in cui annuncia alcune novità. Emergenza Covid-19 da 50 a 100 contagiati. A Brindisi la situazione è delicata anche se per il momento non allarmante. E così il sindaco Riccardo Rossi, ieri al termine della riunione fra la ASL e i primi cittadini del territorio provinciale, ha fatto il punto della situazione e ha annunciato le novità. Ci siamo lasciati la settimana scorsa, a Brindisi città avevamo poco più di 50 positivi e sono raddoppiati, anzi anche più che raddoppiati e abbiamo superato oggi 110 positivi. Questo significa che dobbiamo avere massima cura, attenzione, evitare le occasioni di diffusione che quindi significa limitare le occasioni di contagio, quindi limitiamo i nostri spostamenti e rispettiamo le regole che ci siamo dati sia nell'uso della mascherina, io in questo momento sono lontano da tutti, non la sto usando, però normalmente usiamo tutti la mascherina e poi, ripeto, cerchiamo di circoscrivere le nostre azioni in questo periodo a casa, lavoro, ma diciamo rispettiamo le regole che ci vengono date dai DPCM che ci sono dati, sono assolutamente fondamentali per arginare questa crescita importante. Dal punto di vista sanitario anche da noi stanno aumentando ovviamente i ricoveri e avete saputo anche dell'arrivo da Foggia di un paziente, in terapia intensiva abbiamo sette ricoverati in questo momento, ma è quasi praticamente satura il reparto di infettivi che ha circa 20 posti e quindi si stanno organizzando all'interno del perrino ulteriori reparti Covid a partire da quello di pneumologia, gli altri 20 posti, ma a breve si conta di arrivare a rendere disponibili 100 posti Covid all'interno del perrino, oltre ovviamente i posti di terapia intensiva che sapete sono 16 nella struttura e 28 all'interno del modulo prefabbricato. Altre notizie, si è concluso il bando per le USCA, questa volta è andata bene, hanno risposto più di 100 medici, adesso nei prossimi giorni saranno valutate queste candidature e quindi già dalla metà della prossima settimana dovrebbe essere disponibile il servizio appunto USCA, quindi per poter seguire a domicilio i pazienti. Poi abbiamo sette sul reparto terapia intensiva, si sta lavorando per l'apertura a Francavilla Fontana e a Ostuni, nel blocco operativo di Ostuni. Tra i comuni più colpiti del territorio brindisino sicuramente Villa Castelli, 9.760 abitanti, dei quali 33 che sono stati colpiti, sono contagiati dal coronavirus, subito in collegamento per fare il punto della situazione con il sindaco Giovanni Barletta. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, questo dato è emerso ieri nel corso della conferenza fra i sindaci del territorio e l'ASL di Brindisi. Vogliamo aggiungere qualcosa? Ma l'incontro di ieri è stato fondamentale. Abbiamo deciso di continuare questa specie di task force con l'ASL, dove è giusto che i sindaci devono essere informati. L'ASL ci ha garantito, diciamo, celerità nei contatti e un modo per ringraziare attraverso voi il dottore Termite di migliorare la sua struttura e per migliorare anche i tamponi. Ci è stato garantito che saranno migliorati, diciamo, sarà migliorata la prevenzione a livello dei comuni, a livello delle scuole. Sindaco, ma cosa è successo a Villa Castelli? Come mai così tanti contagi? 33 è un numero abbastanza elevato. Sono persone che hanno avuto contatti fra di loro. Ci spieghi un po' meglio. Ha capito come stanno le cose, lo sa? Sì, sì, sicuramente sì. Allora, sicuramente sì. Allora, innanzitutto devo fare chiarezza per evitare di essere frainteso. Quando ho sempre detto e sostengo che la scuola è sicura, le infezioni sono state dovute purtroppo da saluti, da qualche iniziativa, da qualche abbraccio, che sono avvenuti purtroppo all'interno delle famiglie. Ma questa non è una colpa, voglio dire io. Poi magari i bambini sono andati a scuola e si sono contagiati. Quindi quanti studenti fra le 33 persone sono contagiate? Che cosa, perdonami? Quanti sono gli studenti contagiati sul numero complessivo? Ma ci sono, se non erro, sono 12 persone, sì, 12 ragazzi. E la cosa da precisare è che era opportuno, in questo caso, far chiudere le scuole e trovare a questo punto quella che è la soluzione per fare più tamponi. Ma il caso ha voluto che a Villa Castelli si sono, diciamo, tra virgolette, avuto questa infezione da Covid-19, questi bambini, perché si sono fatti tanti tamponi. Nel momento in cui i tamponi incominciano a farli, con una quantità enorme, come è avvenuta a Villa Castelli, ne vedrai che ci saranno positivi, parecchi, neanche nelle altre città. Quindi in questo momento era da capire, tra la scuola e l'economia, bloccare sì la scuola, ma non perché non è sicura, ma perché i ragazzi, poi parlando tra di loro, ammassandosi, perché dobbiamo essere sinceri pure, i trasporti non sono adeguati così come devono essere, e allora a questo punto, voglio dire, si deve evitare il propagarsi dei contagi. Anche perché, e lo dico da infermiere professionale, bisogna tener conto che ancora in questo periodo le temperature sono alte. Nel momento in cui adesso stiamo pubblicizzando la campagna di vaccinazione antifluenzale, e consideratevi se abbasseranno le temperature, se qua già io a Villa Castelli, così come ho detto il direttore generale, qualora si sono verificati in tutti questi casi, ho ricevuto telefonate ogni giorno di oltre 200 telefonati, giustamente, di persone spaventate. Pensate, siamo ancora all'inizio, immaginiamo adesso che cominciano ad abbassare le temperature, e incomincia, diciamo, purtroppo, nei periodi invernali si sa che c'è l'influenza. Grazie sindaco! Grazie, grazie per... Non è che l'unica cosa che dico è la prevenzione, indossare la mascherina, solo ora non la indosso, perché l'operatore sta meno distante, e igienizzare le mani. Dobbiamo convivere con questo fatto. Purtroppo per un po' di tempo dobbiamo fare così. Grazie sindaco! Le auguriamo una buona giornata! Grazie, grazie. E a proposito di direttore generale, Giuseppe Pasqualone sarà ospite di Palazzo Nervegna, anzi è stato ospite di Palazzo Nervegna, insieme alla sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi. Palazzo Nervegna che andrà in onda questa sera alle ore 21, e del quale vi proporremo una dichiarazione del direttore generale dell'Asla di Brindisi, in anteprima, fra pochissimo. Tamponi e test antigenici, qual è la situazione dei controlli a Brindisi alla luce dell'impennata dei contagi? Dicevamo prima della pausa, se ne è discusso oggi nel corso di Palazzo Nervegna che andrà in onda alle ore 21. Sentiamo. Si parla di una idea, un drive-in nella zona stadio. Ci può specificare meglio, direttore? Sì, noi abbiamo, col sindaco stiamo valutando di posizionare, la protezione civile ci ha già autorizzato, dovrebbe arrivare una seconda struttura per Brindisi, di posizionarla in un'area, zona stadio, zona industriale, ovviamente dobbiamo fare i conti anche con le utenze, perché abbiamo bisogno di luce e acqua, dove ovviamente questo fenomeno delle code, che è legato prevalentemente al fatto che i cittadini non rispettano gli orari che vengono dati dal Dipartimento di Prevenzione, però purtroppo, io ho detto al Dipartimento di Prevenzione, se questo è un fenomeno tipicamente meridionale, noi dobbiamo purtroppo gestire anche questo fenomeno, quindi dobbiamo trovare delle location che siano in grado di gestire le file delle macchine. Ecco, qual è la situazione dei tamponi nella provincia di Brindisi? Sono sufficienti quelli che si fanno? C'è una richiesta forte? Qual è la situazione, direttore? Ma guardi, per il momento i tamponi sono sufficienti, non in base alla richiesta, perché la richiesta è di tutti e questo non è possibile, la selezione la deve fare il Dipartimento di Prevenzione, però proprio in previsione di un escalation di contagi, noi abbiamo adesso in arrivo, ovviamente adesso perché? Perché abbiamo fatto una gara importante, la gara richiede mesi, purtroppo le procedure noi siamo obbligati a seguirle, non c'è norma che abbia detto ai direttori generali di non seguire le procedure per gli acquisti, quindi noi dobbiamo fare le procedure, soprattutto se si tratta di somme importanti, quindi noi sta arrivando un estrattore con i reagenti, abbiamo speso oltre 500 mila euro, che consentirà di praticamente raddoppiare la capacità di fare test molecolari nell'Aldre di Brindisi. A questo poi si aggiungono i nuovi estrattori che abbiamo posizionato ieri, è stato accreditato quello dell'ospedale di Francavilla Fontana, che in 45 minuti o addirittura in 12 minuti può processare i tamponi per l'esigenza dell'ospedale e anche gli ostuni di Francavilla, e poi a questo dobbiamo aggiungere le attrezzature che ci sta fornendo la protezione civile per effettuare i test antigenici. I test antigenici vengono eseguiti in 12 minuti, quindi doteremo un'autovettura di queste attrezzature, quindi andremo in giro sul territorio a effettuare i test antigenici. Il test antigenico non è il test molecolare, ma ci dà ovviamente un'indicazione molto significativa di quella che può essere l'eventuale positività di un individuo. Contratto istituzionale di sviluppo e gasdotto TAP-SNAM ha riaperto il confronto fra il governo e i comuni di Brindisi e Lecce. Sentiamo. Contratto istituzionale di sviluppo e gasdotto TAP-SNAM. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, riparte il dialogo. Ieri videoconferenza fra il sottosegretario Mario Turco e i sindaci di Brindisi e Lecce, al termine della quale Riccardo Rossi scrive su Facebook Ho partecipato ad una riunione con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare due importanti temi aperti, gli indennizi derivanti dal progetto TAP-SNAM e il contratto istituzionale di sviluppo. Sul primo tema il sottosegretario Turco, responsabile di gestire il fascicolo TAP per conto della Presidenza del Consiglio, con riferimento alle compensazioni, ha evidenziato la necessità di sviluppare proposte progettuali orientate a favorire investimenti forieri di sviluppo imprenditoriale, occupazionale o di benessere collettivo e condiviso. Il percorso metodologico condiviso vedrà il Governo come interlocutore dei comuni, afferma il sindaco Riccardo Rossi, attraversati dall'opera ai fini del ristoro. Sul contratto istituzionale di sviluppo, invece, la Presidenza del Consiglio ha in essere approfondimenti con il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. Prosegue il sindaco. Nell'incontro si è preso atto del lavoro svolto in questi mesi dalle città di Brindisi e Lecce in merito ai progetti e agli ambiti di intervento presentati nella prospettiva di uno sviluppo territoriale ampio e coeso. In sede governativa, conclude il sindaco Riccardo Rossi, sarà presto aperto un confronto di interlocuzione con le città di Brindisi e Lecce. Prodotto ittico non tracciato, sequestro nel porto di Brindisi. Sentiamo. Sequestrata a Brindisi mezza tonnellata di prodotti ittici, i militari della Guardia Costiera hanno trovato all'interno di una furgone 97 cassette di prodotto non tracciato. Ieri, nei pressi del barco portuale di Via delle Bocce nel porto di Brindisi, i militari hanno fermato e sottoposto a controllo un automezzo frigo di una società operante nel settore ittico del barese. Nel mezzo sono state rinvenute confezioni contenenti circa mezza tonnellata di pesce congelato. Tutte le confezioni erano prive delle informazioni obbligatorie ai fini della tracciabilità e pertanto non commercializzabili ai sensi della normativa comunitaria e nazionale a garanzia della salute dei consumatori. Dal controllo è immerso inoltre come anche il documento di trasporto fosse privo delle informazioni minime e utili. Le sanzioni per questo tipo di violazione sono elevate da un minimo di 750 euro ad un massimo di 4.500 euro. In questo caso, al conducente del mezzo e al rappresentante legale della ditta è stata contestata una sanzione di 1.500 euro e i 500 chili di pesce sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Abbiamo ampiamente parlato di Covid e dei suoi effetti compresi quelli sulla cultura e sulla chiusura dei teatri ma il comune di Francavilla Fontana va avanti e nel pieno dell'emergenza epidemiologica sottoscrive una nuova convenzione per l'utilizzo del Cinemateatro Italia. Per saperne di più su questo slancio di ottimismo da parte dell'amministrazione ci colleghiamo con l'assessore alla cultura Maria Angelotti. Buongiorno, assessore. Buongiorno, Anna. E buongiorno a tutti i telespettatori di Studio Centro e bentrovati. Cosa prevede questo accordo, questo nuovo accordo per il prolungamento della durata? Appunto, di un rinnovo di una convenzione che è già in atto nel comune da diverso tempo. Intanto bisognava adeguarla ai nuovi indici e ci sembrava giusto e opportuno farlo. E poi lo abbiamo portato da un rinnovo di sei anni a un rinnovo di dieci anni per l'uso per 26 giornate durante l'anno. Un'iniezione di fiducia? Sì, mi piace proprio pensarla così in questo momento. Noi stavamo lavorando nelle ultime settimane a preparare la stagione teatrale insieme al Teatro Pubblico Pugliese. E nonostante le difficoltà ci siamo detti che bisogna continuare a pensare a fare cultura, a crederci, a scommetterci. Quindi l'approvazione della convenzione speriamo davvero di poter avere una stagione teatrale nei prossimi mesi. Perché addolora tutti quanti sicuramente lo stop alla cultura. Francaville è una città poi piena di associazioni culturali e artistiche che molto si spendono per il territorio e a cui spesso come Comune noi concediamo l'uso dello stesso teatro per rappresentazioni o spettacoli. Diciamo che per usare una metafora c'è questo sipario che è calato in questo periodo tanto sul teatro fisico quanto proprio sulla cultura in questo lato. Noi speriamo che questo sipario possa tornare ad alzarsi quanto prima possibile. Ovviamente ce lo auguriamo insieme a voi istituzioni che operate sul territorio anche a sostegno della cultura di un settore del quale vivono tanti artisti compresi quelli del territorio provinciale. Grazie all'assessore Maria Angelotti ti auguriamo grazie a voi e buon lavoro buona giornata anche a voi primo caso covid in ambiente sportivo brindisino per quanto riguarda il brindisi calcio tutte le novità subito in collegamento video con Fabrizio Caglianiello buongiorno Fabrizio ben ritrovata Anna un saluto ai nostri telespettatori sì il colpo di scena perché di questo si tratta si è verificato questa mattina in occasione del secondo giro di tamponi del brindisi un tesserato della società bianco azzurro risultato positivo al covid per questioni di privacy come sapete non è possibile comunicare il nome del calciatore si tratterebbe comunque di un giovane calciatore bianco azzurro e come da protocollo il brindisi è stato costretto ad informare la Lega Nazionale Dilettanti richiedendo il rinvio della partita con il Taranto una decisione sofferta per la società brindisina che ricordiamo aveva votato a favore della prosecuzione del campionato martedì scorso dopo il referendum indetto dalla Lega Nazionale Dilettanti che aveva chiesto agli stessi club di decidere se proseguire o no visto questa gravissima situazione dal punto di vista sia epidemiologico che economico che stanno vivendo diverse società quella tra Taranto e Brindisi sarà dunque Anna al momento e poi non sappiamo cosa accadrà fino a domenica la quinta partita rinviata su nove gare del girone H perché sono state rinviate anche Fasano Versa Portici Gravina Nardò Casarano e Cerignola Lavello questo ci dà il termometro della situazione ma soprattutto ci fa capire quanto sia difficilissima forse drammatica la situazione in questo momento in Serie D dunque ribadiamo c'è un positivo nel Brindisi si tratta di un calciatore e con ogni probabilità entro stasera la LND Federazione Italiana a gioco calcio rinvierà data da destinarsi il derby di Taranto insomma non risparmia nessuno neanche il mondo dello sport ovviamente questo virus avremmo preferito non dare questa notizia ma tante grazie Fabrizio grazie a voi Anna vi aggiorneremo poi sui nostri social chiaramente nelle prossime ore in merito alla situazione e per questo è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale ha curato la parte tecnica Alessandro Colavito grazie per essere stati con noi arrivederci e buon proseguimento di serata grazie a tutti